Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un video che molti di voi aspettavano e voglio renderlo un po' un video chiacchiericcio, tra virgolette. Parlerò senza interruzioni, faccio un po' uno stream of consciousness per farvi capire quelli che sono i miei pensieri al riguardo ed è il video in cui vi spiego come gestirò questa mia prossima off-season. Saranno due video in realtà. Questo primo video parlerò dell'alimentazione e il prossimo dell'allenamento. Ora, per chi mi segue su Instagram, se non lo fate, seguite su Instagram, avrete capito che alla base di tutto c'è un concetto di intuitive eating. Quindi la mia alimentazione per questo off-season sarà un'alimentazione basata su questo intuitive eating, cioè mangiare quello che intuitivamente mi viene da mangiare. Ora, alcune premesse devono essere fatte prima che vi spieghi nel dettaglio poi c'è poco da spiegare realmente perché è una cosa che inizio a fare quindi non ho delle vere regole e neanche delle esperienze in merito per qualcosa che normalmente non si fa però comunque le premesse sono principalmente due. La prima premessa è che non è un mangio il cazzo che mi pare sostanzialmente. Assolutamente no. Quello che è l'intuitive eating è avere comunque un know-how, una conoscenza di base di quella che è l'alimentazione quindi mangiare, avere un'educazione alimentare e su questi principi di educazione alimentare semplicemente ascoltare il proprio corpo cioè cercare di ascoltare i segnali che il nostro corpo ci manda. Ed è un qualcosa che noi bodybuilder non abbiamo la capacità di mettere in pratica né di sapere apprezzare e non abbiamo la capacità di asprezzare quanto potente e preciso possa essere il nostro corpo nel dirci quello di cui ha bisogno perché semplicemente dal giorno 1 seguiamo un'alimentazione e per noi ho finito di mangiare quando ho finito quello che c'è scritto nella dieta nel pasto e sono sazio in base a principalmente quello che devo mangiare quindi ci discostiamo totalmente da quelli che sono i segnali che ci manda il nostro corpo quando abbiamo i nostri pasti liberi fateci caso non abbiamo idea se siamo sazi se vogliamo un qualcosa o la vogliamo soltanto perché è il pasto libero quindi possiamo mangiarla effettivamente ed è una situazione molto complicata ora io ho parlato diverse volte del fatto che di base secondo me l'agonista non dovrebbe pesare neanche cioè di base non si dovrebbe tracciare i macros si dovrebbe avere un'alimentazione e pesare però il non-agonista secondo me non dovrebbe neanche pesare il cibo ma dovrebbe semplicemente appunto basarsi sui concetti di educazione alimentare e di un'alimentazione piena gustosa sana ed equilibrata applicarli senza impazzire a pesare il cibo perché secondo me la nutrizione per l'uomo non dovrebbe essere vissuta con la bilancia cioè è inconcepibile che una persona X che non è un'atleta conista vive la sua vita pesando tutto quel che mangia dal mio punto di vista e questo è un secondo punto una seconda premessa tutto quello che dirò in questo video potrebbe essere usato a parte sì ma tutto quello che dirò in questo video si applica su di me ragazzi sono miei conclusioni sono cose che possono funzionare su di me e potete e dovete se del caso non essere d'accordo e semplicemente riconoscere che per voi queste cose non valgono questi ragionamenti non valgono non si applicano e questo va benissimo ok quindi io per dirne una ho la fortuna di avere Giorgia che cucina e che prepara piatti meravigliosi quindi per me il sedermi a tavola senza sapere che cosa c'è da mangiare è un'esperienza bellissima sapendo che lei pure ha dei concetti di nutrizione di base quindi per me è un'esperienza bellissima logicamente se voi vivete da soli e non sapete cucinare non vi piace cucinare potete dire tanto vale che seguo una dieta perché tanto non posso provare questa gioia ok o se cucina la vostra la vostra moglie o il vostro marito ed è una tragedia in cucina senti io mi faccio il mio riso e il pollo a posto così oppure faccio quello che mi aspetta insomma seguo la mia dieta a posto non ti preoccupare tesoro sei bravissima mi piacerebbe però io io ho la mia dieta tu si cucina per te vai tranquillissimo ok e questo è è un altro discorso per dirne una quindi sono voglio condividere con voi quelle che sono le mie conclusioni che ho maturato in quest'ultimo anno e l'altro discorso è che sono veramente convinto che tutto quello che farò in questo off season sarà un grandissimo passo avanti quindi un vero game changer in termini di risultati quindi non vedetela come un Ludo abbandona un po' il bodybuilding Ludo fa un passo indietro no sto facendo quello che sono convinto di essere un passo avanti importantissimo e sono convinto che porterà dei risultati anche cioè soprattutto poi se vogliamo dei risultati estetici veramente molto molto importanti quindi sto andando in questa direzione ok sto andando sempre nella stessa direzione e questo vale anche per tutto quello che vedrete essere poi l'impostazione dell'allenamento quindi fate queste premesse allora qual è il concetto di base di nuovo è difficile fare un video per spiegarvi tutto quando fate bodybuilding da tanti anni e arrivate ad avere buoni risultati e arrivate al punto in cui i risultati sono sempre più rosicchiati tra virgolette avete tanto margine però sono sempre più difficili da ottenere il bodybuilding vi porta a vivere costantemente nel cercare di più cosa posso far di più che allenamento posso fare che cosa posso inserire che finezza mi sta sfuggendo andate a cercare come si allenano i campioni vedete i protocolli fate consulenze cercate di riapplicare alcuni dettagli alcuni integratori utilizzati in un certo modo un timing particolare un certo tipo di ricarica un certo tipo di stimolo di allenamento di schema motorio e avete iniziato a sviluppare dietro questa fame di risultati che è positiva perché è quello che io credo manda avanti e dovrebbe mandare avanti tutti noi è positivo avere fame di risultati però iniziate a sviluppare questa fame che vi porta a chiedervi sempre cosa posso far di più cosa posso far di più cosa posso far di più e il bodybuilding ha questo effetto di risucchio vi risucchia totalmente continuate a adentrarvi sempre più nel profondo come nei diversi gironi danteschi vedete tutte tutto quello che potete vedere approfondite tutto quello che potete approfondire avete una conoscenza completa del bodybuilding e vi immergete sempre di più in questo straordinario perché straordinario mondo il problema è che il problema a un certo punto grazie soprattutto a Giorgia che tende a essere sempre molto più eclettica di me per quanto io mi considero una persona eclettica e ha sempre mantenuto un piede un po' più fuori da questo settore e grazie anche a Gabriele che mi ha bastonato a dovere su questo discorso di aprirmi a un certo punto è nato un click sul non è cosa posso far di più in questo mio momento è cosa posso far di meno perché fare di più cercare di continuare a far di più sta iniziando a togliermi io vi ho detto sempre vi dico sempre cercate di capire sempre quanto un qualcosa vi da e quanto vi toglie e fate in modo che vi dia fate in modo che vi arricchisca ecco il bodybuilding in qualche modo mi stava togliendo discorso dell'alimentazione io non ho mai vissuto come uno stress non ho mai avuto lo stress dell'alimentazione né in preparazione se devo mangiare poco mangio poco non ho problemi né in bulk se devo mangiare tanto mangio tanto non ho problemi sono una buona forchetta eccetera quindi io non ho mai avuto lo stress del dover seguire un piano alimentare questo no però mi sono reso conto che non avevo lo stress ma mi stavo premando di una gioia la gioia che stava provando Giorgia nel godere il cibo lo sapete lei ha la pagina Lefibistro per chi non lo sapesse è una cuoca cioè nasce come cuoca poi applicato tutto quanto al fitness però in cucina è veramente veramente brava e vive il cibo come dovrebbe essere vissuto vive il gusto vive l'esplosione e riesce a vedere una ricetta per quello che le dà da un punto di vista di sapori e non quello che le dà da un punto di vista di macros di quante pro grassi carbos è più glucidica più lipidica eccetera e il discorso del immaginarmi perché ne avevo parlato poi in un podcast con Giuse e Marco io ho detto io il mio piano di ritiro tra virgolette quando smetterò di gareggiare è non seguire una dieta cioè avere i principi base alla nutrizione però per il resto io voglio sedermi a tavola e vedere cosa mia moglie ha preparato per me e mangiare mangiare è quello che mi va se mi va qualcosina in più a casa avremo qualcosina da aggiungere come dolcetto eccetera se mi va qualcosina in meno avanzo un po' di cose ce le mangiamo a cena ce le mangiamo il giorno dopo però voglio veramente viver così perché non credo che la bilancia debba caratterizzare la nutrizione di una persona che di nuovo ha un background e sa che cosa vuol dire avere una dieta equilibrata quindi non una persona che mangia cazzo mcdonald se scofa una pasta e tutto il resto e il click che ho fatto è perché io devo aspettare il ritiro ragionaci Ludo pensa tu che cosa vuoi ottenere dall'alimentazione quali sono i tuoi scopi io dall'alimentazione voglio stare in salute e massimizzare la mia performance come atleta performance e conseguentemente i risultati ora tu puoi ottenere questi scopi senza neanche pesare il cibo sì sì perché per quanto riguarda la salute il primo impatto c'è la scelta delle fonti della provenienza delle fonti e su questo noi noi mangiamo bene ragazzi cioè mangiamo scegliamo bene le fonti le fonti che devono essere gustose perché Giorgia se deve preparare una ricetta affinché la ricetta sia gustosa quindi abbia un equilibrio di sapori la materia prima deve essere gustosa di sapere riconoscere sentire il sapore del pomodoro della zucchina le spezie quelle buone la carne deve saper di carne deve avere quel buon sapore di bistecca il pesce il salmone deve essere un salmone selvaggio che esprime quel che non sa quel salmone surgelato schifoso che non sa di niente che è stoppaccioso la texture anche degli alimenti deve avere una certa perfezione per potersi abbinare sposare sono tutte cose che Giorgia sta sviluppando per il suo libro quindi di base gli alimenti che inseriamo hanno un impatto sulla nostra salute di per sé positivo ok anche la scelta di determinate fonti di grassi quindi l'olio extravergine di oliva piuttosto che massacrare di burro eccetera eccetera di nuovo avere delle nozioni di dieta sana equilibrata non deve essere un black and white ok ragazzi questa è una cosa molto importante cioè c'è una via di mezzo non è che se uno dice ok devo essere spensierato in alimentazione allora devi mangiare quello che ti pare no utilizza dei principi base della nutrizione per poter stare in salute e poi una grande determinante della salute lo fa oltre al discorso esercizio fisico ok però da un punto di vista alimentare lo fa il bilancio energetico e là entra in gioco il mio corpo il mio corpo che è in grado di dirmi in maniera chiara in base a quella che è la mia BF quando sono sazio quando non sono sazio addirittura nei diversi giorni se ho bisogno di mangiare un po' di più se ho bisogno di mangiare un po' di meno è in grado di dirmi se ho bisogno di un po' più di carbo o di grassi perché mi direziona da un punto di vista proprio di cravings di ricerca in quella direzione se ho bisogno di determinati micro elementi quindi mi fa venire voglia di qualcosa queste sono tutte cose che esistono ragazzi ma che noi non sperimentiamo non abbiamo coscienza perché come bodybuilder siamo totalmente disconnessi e perché d'altro canto l'uomo medio tra virgolette ha un'alimentazione che è fortemente vittima dell'industria alimentare quindi anche da un punto di vista di ricerca dei sapori di bisogni eccetera è totalmente distrutta e di nuovo disconnessa perché l'industria alimentare bombarda di sodio di grassi tutto quello che porta a richiamare l'appetito di una persona e ho approfondito questo campo su diversi studi che ci sono che sono stati fatti su diverse testimonianze eccetera e il nostro corpo ci direziona molto bene allora ho detto perché io devo pagare un preparatore o ragionare su su quello che è l'esatto bilanciamento di macros secondo alcune formule alcuni principi che io studio se il mio corpo è il preparatore migliore che io posso avere perché mi dà dei segnali precisi che sia chiaro che sono segnali che il mio corpo mi dà io devo leggere e devo fare delle decisioni esempio classico il mio corpo cercherà di mantenere un omostasi di input calorico che riesce a gestire da un punto di vista pancreatico enzimatico digestivo e poco gliene frega della performance in palestra quindi devo essere io a riconoscere il peso è questo la condizione è questa la performance deve essere spinta un po' di più faccio un filo di overheating quindi cerco di forzarmi un po' di più a mangiare e queste sono cose di cui vi parlerò facendo un'esperienza perché ho appena iniziato quindi ancora non so dirvi esattamente come mi regolerò però il mio pronostico è che con il graduale miglioramento di performance che avrò inevitabilmente perché migliorerò in sala aumenterà anche l'appetito la richiesta energetica quindi automaticamente basandomi su quello che il mio corpo mi dirà mangerò gradualmente di più durante la mia fase di off-season però sicuramente verso la fine dovrò fare un po' di overheating e overfeeding quindi forzarmi un po' di più a mangiare e quando mi sento saturo farò un mini cut quindi semplicemente questo è il mio livello di sazietà mi alzerò che ancora ho un filino di fame o qualcosa del genere però di questo farò esperienza e vi dirò quindi questo è sostanzialmente il mio approccio per quanto riguarda invece il secondo obiettivo la performance quindi abbiamo detto la salute è un obiettivo che posso raggiungere andando a basarmi andando a smettere di pesare il cibo per quanto riguarda la performance allo stesso modo come vi ho detto si tratta semplicemente di leggere i segnali del mio corpo e prendere delle decisioni sul tra virgolette ignorarli e forzarlo un pochetto perché comunque la performance il bodybuilding è un forzare il nostro corpo quindi si parte da questo assunto ora di nuovo altra cosa che voglio dirvi è che non si tratterà se mi seguite su Instagram a parte di scherzi sulle storie io sto postando in questi giorni tutto quello che mangio e non scrivo ovviamente le quantità perché non le so però vi do un'idea attualmente la mia impostazione è mi sveglio la mattina faccio il mio cardio poi di questo parlerò faccio colazione è una colazione in cui mangio Giorgia fa il porridge per tutti e due ci mette per arricchirlo in preziosismo lo della frutta essiccata quindi i fichi piuttosto che i dateri eccetera e la pasta di cacao ogni tanto ci metto un filo di miele insomma poi quello lo vede lei delle spezie magari per aromatizzare e e io a parte per far fronte alla fame perché non voglio a topparmi d'avena perché il mio pre-workout e c'ho le isofuji quindi le whey con i cereali di riso che digerisco molto molto bene e mangio a sazietà so che mi devo allenare nel giro di due ore e mezza tre ore perché così funziono io quindi cerco di non cioè di arrivare ad essere sazio e non esagerare perché se esagero per come sono fatto io se c'ho anche un filo di qualcosa sullo stomaco quando mi alleno mi alleno male quindi devo arrivare che sono comunque abbastanza tranquillo quindi mangio a sazietà mi faccio due tre ciotole non lo so di cereali così l'avena due scoop di whey e questo è allenamento c'ho l'intra workout con 60 grammi di glycobol quelli di peso e 20 grammi di alphatec e il sale tanta acqua tanta acqua durante la mattina che bevo poi c'ho il mio post workout e Georgia là semplicemente si orienta su un pasto che è principalmente glucidico quindi c'è sempre del pane a tavola può fare le patate dolci fa un primo che può essere pasta riso scusi insomma le ricette sono tantissime ragazzi e per me è una sorpresa ogni volta quindi e una piccola moderata quantità di proteine da fonti nobili nella maggior parte dei casi il pesce che può essere un merluzzo piuttosto che un altro pesce o la carne che può essere il pollo o una carne magra dipende dalla ricetta di per sé se dopo aver finito ho ancora fame e sento di avere come fame mi faccio un bagel con la marmellata tipo oggi me lo sono fatto mi sono riscaldato un bagel ci ho messo la marmellata all'interno un filo di marmellata e via ah ecco se ho fame per esempio la mattina mi faccio un frutto anche in più da là io normalmente non sono solito fare uno spuntino non mi ci trovo per i miei ritmi quindi seguo anche questo sicuramente se mi viene fame a metà pomeriggio mangio qualcosina però normalmente vado tirato fino a cena noi ceniamo piuttosto presto ragazzi quindi pranziamo verso l'una e ceniamo verso le sei e mezza e a cena di base già si diventa un po' più su una cena lipidica quindi molto spesso cereali e legumi senza fonti di proteine nobili io in quel caso aggiungo un filo di protesamine giusto per dare una spinta alla proteosintesi quindi otto caps di protesamine se no per esempio un salmone una carne grassa che è grass fed il salmone è selvaggio quindi comunque grassi che sono tendenzialmente buoni verdura sempre una quantità di carbo che può essere il pane piuttosto che le patate dolci piuttosto che il riso eccetera di nuovo ragazzi ogni volta c'è una cosa nuova una cosa diversa molti legumi molto spesso polpetti di legumi li digerisco molto molto bene mi fanno impazzire mi piacciono tantissimo quindi quelle le inseriamo molto spesso e e questo è e di solito alla fine ci facciamo un dolcetto che di nuovo può essere qualsiasi cosa molto spesso sono ricette che Giorgia ha preparato per il suo canale oppure per il canale di IAF e sono quindi dolcetti con l'avena con i diversi burri di noci di pistacchi eccetera quindi cose spaziali deliziose questo è per darvi un'idea poi come detto è intuitiviting quindi Giorgia sta preparando il libro di Lefi Bistro quindi ha tantissime ricette da presentare e fa ricette per la pagina quindi c'è veramente di tutto però la linea più o meno è questa tanti carbo carbo e grassi a colazione tanti carbo nel post workout un filo di grassi che per carità ci possono scappare magari ecco nel bagel con la marmellata ci metto un filo di burro di pistacchi di IAF che è pazzesco buonissimo e principalmente un po' più di grassi un po' meno carbo nella cena e questo è il discorso dell'applicare dei principi di dieta sana equilibrata cioè dei principi base che seguite senza stare a impazzire quanti carbo non lo so quanti grassi non lo so tendenzialmente un po' più grasso la sera un po' più glucidico all'ora di pranzo e per esempio se dovrò forzare un po' con l'alimentazione spingerò un pochetto inserirò uno spuntino il pre nanna non è né a me a Giorgia fa impazzire come pasto perché ci piace fare una bella cena e poi avere il tempo di digerire però eventualmente posso aggiungere anche un pre nanna se vedo che devo spingere proprio il peso capite? saranno regolazioni saranno fatte così non so a questo cosa porterà il Ludovico di tempo fa avrebbe detto a questo Ludovico dai a questo video avrebbe risposto dai non te vado a fare la dieta e io gli rispondo sì è esattamente questo non mi va di fare la dieta per me il gioco non vale la candela perché mi privo di momenti di gioia importanti perché il cibo è anche questo e mi forzo a snaturarmi perché perdo un certo senso di affinità col mio corpo che non voglio perdere io voglio vivere l'alimentazione in maniera più serena possibile e sono nella posizione di dire che si può fare in un contesto di off season per carità e può non può fare altro che beneficiare a me personalmente io sono in un pieno rebound ragazzi post gara periodi che chi ha gareggiato sa essere più difficile in assoluto in rapporto col cibo non sono mai stato così sereno col cibo ve lo dico col cuore e come vi ho sempre detto col cuore che io in rebound avevo cravings e ho sempre vissuto il cibo male e che è normalissimo che sia così perché il corpo ti spinge a mangiare di più vuole che ingrassi quindi c'hai cravings però avere l'idea che non c'è una dieta avere l'idea che io ieri ho portato mia moglie a cena fuori per l'anniversario in un locale molto carino un sushi e ho realizzato questo non è un pasto libero cioè celebriamo l'anniversario però non è un'occasione in cui mangio fuori e posso mangiare quel che voglio questo io lo posso fare domani se mi va dopo domani possiamo uscire a cena fuori anche tutte le sere non c'è il cheat meal non esiste lo sgarro non ho cravings e mi sto fermando a mangiare quando sono sazio in poco tempo ho recuperato questo e perché? perché non c'è il pensiero del oddio devo mangiare perché posso mangiare adesso questa cosa e poi devo tornare a fare la dieta e quando faccio la dieta dico oddio quella sabato me la mangio sabato al cheat me la mangio quella cosa me la mangio quell'altra me la mangio questa la devo provare oppure assaggio dico oddio quanto la vorrei però io devo seguire la dieta non esistono queste cose e allora assaggio questa cosa e dico oddio quanto la vorrei la voglio davvero? no mi basta questo cucchiaino è buono è buono posto sta là quando mi va me la prendo e poi alla fine finisce che non me la prendo mi sta dando tanto mi sta dando veramente veramente tanto quindi io spero che questo video possa essere uno spunto di riflessione per voi sia nel provare magari a cimentarvi in questo a ritrovarvi nelle mie parole o dire vada e retro vada e retro questa cosa non la farò assolutamente mai a me sta dando tanta felicità sta dando tanta felicità è una cazzata però sta dando tanta felicità anche a me e a Giorgia non che non c'era prima una felicità lo sapete siamo fantastici ci amiamo tantissimo però respiriamo stiamo respirando molto molto di più e stiamo capendo quanto il bodybuilding possa essere vissuto in maniera di darti soltanto e non farti perdere nessun attimo della vita ora se io avessi le carte per poter andare all'Olimpia probabilmente non farei questa cosa perché non è il best case scenario se vuoi raggiungere se vuoi essere sicuro attenzione di raggiungere il massimo dei tuoi risultati perché se arrivi a quel punto e se puoi arrivare a quel punto hai un livello di commitment per cui seguire una dieta precisa è qualcosa che ti dà un drive ulteriore a me personalmente non lo dà in questo momento quindi se voglio il massimo dei miei risultati devo fare questo passo indietro questa è una cosa che ho realizzato e sto bene sto veramente bene mi ha dato veramente veramente tanto fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti sono veramente molto molto curioso e sarò ben liato logicamente di rispondere a qualsiasi vostra domanda e dubbio di qualcosa che magari mi è sfuggito noi ci vediamo col prossimo video in cui vi dirò come gestirò l'allenamento quindi la componente dell'allenamento che forse vi darà un quadro anche più completo quindi vi rimando al prossimo video un quadro un quadro